e salve a tutti amici del legionario e benvenuti alla 98esima puntata della nostra rubrica 10 minuti con il legionario torniamo in diretta questa è una puntata un po' particolare insomma tutti quanti ben sapete la situazione delicatissima che sta attraversando il nostro paese in questo momento noi proviamo comunque a parlare di calcio per quanto sia per quanto sia possibile perché comunque il calcio sta ovviamente avendo delle ripercussioni date dal coronavirus ieri si sono giocate diverse partite una situazione veramente surreale tutta la serie A ricordiamo a porte chiuse si è recuperata la 26esima giornata quella che era stata rinviata insomma una barzelletta incredibile la Roma comunque giocherà la prossima settimana a meno che la FGC non dovesse decidere di stoppare il campionato avrebbe dovuto giocare con la Sam però dal momento che si stanno recuperando queste partite che erano state rinviate precedentemente la Roma questa settimana riposa e i giallorossi scenderanno in campo giovedì alle ore 18.55 contro il Siviglia per l'andata dell'ottavo di finale di Europa League una partita importantissima notizia degli ultimi minuti proprio la la polizia la polizia nazionale spagnola ha chiesto avrebbe mandato una lettera al governo per chiedere di giocare la partita a porte chiuse perché ancora non c'è l'ufficialità di giocare a porte chiuse Siviglia Roma secondo me sarebbe una decisione più che saggia dal momento che si eviterebbe lo spostamento di diverse persone dall'Italia in Spagna e soprattutto perché appunto l'emergenza sta non come nel nostro paese ma comunque si sta dilagando anche in Spagna in Francia ad esempio a Parigi si è deciso di giocare a porte chiuse stessa cosa a Valencia si eviterebbe appunto l'assembramento di moltissime persone perché lo stadio è un luogo dove il virus si farebbe un viaggio veramente incredibile dal momento che moltissime persone starebbero al contatto si ritroverebbero ad un contatto troppo troppo ravvicinato per cui la Roma partirà per Siviglia a meno che la UEFA non dovesse dare delle direttive diverse ma a questo punto sembrerebbe che tutte quante tutte quante le squadre giochino tutte quante le italiane molte partite si giocheranno appunto a porte chiuse domani potrebbe esserci la decisione di stoppare il campionato ieri è successa una cosa che ha dell'incredibile si è giocata Parma Sassuolo la prima partita scusate Parma Spal alle 12 e 30 ad un certo punto in base anche alle dichiarazioni del ministro dello sport Spadafora le squadre sono state fatte rientrare nello spogliatoio e la partita è cominciata soltanto a 1 e 3 quarti una cosa incredibile è intervenuto anche Tommasi che è il presidente dell'associazione italiana calciatori dicendo che sarebbe cosa buona e giusta stoppare il campionato anche il ministro dello sport appunto ha detto ha fatto un appello alla FIGC di sospendere questo questo campionato giocare certo il calcio può regalarti quelle due ore di spensieratezza in un in un momento così così delicato ma la situazione sta diventando veramente troppo troppo seria e anche la salute dei calciatori può essere può essere compromessa perché comunque sono esseri umani il virus si espande moltissimo non è che nessuno è immune per cui anche per tutelare la salute degli atleti di moltissime persone di tutti gli addetti ai lavori non solo dei calciatori sarebbe cosa buona e giusta a questo punto stoppare il campionato anche perché lo abbiamo visto ieri insomma un calcio senza tifosi è una cosa incredibile giocare un big match come Juventus Inter a porte chiuse giocare in uno stadio giocare alla scala del calcio a San Siro senza neanche uno spettatore insomma compromette questo ne ha anche dello spettacolo che è il calcio senza i tifosi è uno sport morto parliamoci chiaro io se dovessi fare una previsione non credo che questo campionato finirà domani ci sarà un consiglio straordinario della FIGC in conference call per cui domani avremo la risposta a tutti i nostri a tutti i nostri dubbi si capirà se il campionato continuerà cosa molto difficile perché ormai le pressioni stanno diventando moltissime come giusto che sia oppure il campionato potrebbe essere sospeso fino al 3 aprile insomma anche i decreti che sono stati approvati anche il che è stato approvato dal governo nella giornata che è stato approvato ieri dura fino al 3 aprile per cui il campionato potrebbe essere sospeso fino al 3 aprile c'è l'ipotesi di poter giocare a giugno però questo comporterebbe il rinvio dell'europeo all'anno prossimo oppure il campionato potrebbe bloccarsi direttamente questa stagione ormai è terminata e poi si riparte con la speranza che il virus venga contenuto si riparte poi a agosto insomma con la prossima stagione poi ci sarebbe bisognerebbe prendere delle decisioni cioè comunque lo scudetto andrebbe assegnato ci sarebbero delle squadre che dovrebbero retrocedere le altre ovviamente che devono andare in Europa insomma domani si spera perché fino adesso non abbiamo mai avuto chiarezza si spera che ci sia chiarezza e che il futuro della Serie A venga ben definito e che la decisione venga presa e che venga presa la miglior decisione che vada a tutelare la salute di tutti quanti perché i soldi vengono dopo la salute viene in primis ovviamente e in questo momento non si sta tutelando sicuramente la salute dei calciatori insomma è una farsa incredibile se io ripenso a una giornata come quella di ieri che era stata rinviata a maggio addirittura perché parliamoci chiaro per degli interessi che ci sono dietro alcuni volevano giocare addirittura a porta aperte quando c'era stato il consiglio giorni fa tutti quanti diversi rappresentanti di diverse società hanno litigato dai una cosa incredibile penso a Juventus Milan che doveva essere giocata a porta aperte solo per i residenti in Piemonte insomma io credo che di fronte ai soldi di fronte alla salute di milioni di persone gli interessi economici vengano dopo giustissima la decisione di giocare a porte chiuse ma ormai la situazione siamo il secondo paese più contagiato al mondo per cui credo che sia ne vada per il bene di tutti di stoppare il campionato bisogna capire se con lo stop del campionato la Roma comunque giocherà in Europa ma credo di sì perché questa è una decisione a parte che non spetta alla FIGC che ha ovviamente soltanto potere in ambito nazionale a quanto pare da quanto filtra dalla FIFA insomma dalla UEFA chi deve decidere in questi ambiti la Roma giovedì andrà a giocare a Siviglia per cui sia comunque anche l'Inter giocherà in Europa League il Napoli andrà a Barcellona anche quella probabilmente verrà giocata a porte chiuse la Juventus riceverà invece il Lione in casa a Torino quella già sicuro si giocherà a porte chiuse così come Roma-Siviglia della prossima settimana sarà a porte chiuse bruttissimo purtroppo perché ovviamente sappiamo che il calore dell'Olimpico ci avrebbe dato una spinta in più però non si può fare altrimenti in questo momento per cui ripetiamo la decisione che verrà presa domani non avrà ripercussione in ambito europeo questa è una cosa che non spetta alla Fiji Cip parlando sempre di Roma e parlando della partita di giovedì abbiamo un centrocampo un po' siamo un po' strimizziti a centrocampo perché Diavara è in rientro per fortuna ha fatto 60 minuti con la primavera nella partita contro l'Inter terminata per 3-3 Veretù è squalificato, era diffidato, si è preso in giallo nella partita contro il Ghent per cui le alternative sono due o giocano Villar e Cristante davanti alla difesa oppure Fonseca decide di affiancare Fazio a Chris Smalling con un avanzamento di Mancini in mediana accanto a Brian Cristante lo ha già fatto quest'anno lo ha fatto anche troppo bene nel mese tra ottobre e novembre quando abbiamo avuto una serie lunghissima una lista lunghissima di infortunati per cui l'alternativa c'è una partita delicatissima quella contro il Siviglia squadra forte che è reduce da un 2-2 importante contro una squadra altrettanto forte come l'Atletico Madrid sarà molto difficile soprattutto in casa loro porte aperte o chiuse insomma che sia sarà una partita molto molto ostica servirà la miglior Roma la Roma che abbiamo visto a Cagliari lancia dei segnali lascia dei segnali positivi una Roma che ha rischiato che ha dominato la partita praticamente ma che ha rischiato di incartarsela da sola con i classici errori difensivi che ormai da un po' di tempo a questa parte accompagnano la squadra di Paolo Fonseca con un po' più con la stessa prestazione di Cagliari e un po' più di attenzione in fase difensiva e senza cali di concentrazione che sono quelli che insieme agli errori in fase difensiva stanno accompagnando la Roma in questa stagione ce la possiamo fare e possiamo portare a casa un buon risultato da Siviglia che poi ci metterebbe in una buona posizione per la partita di ritorno Friedkin-Pallotta la trattativa va avanti sono stati firmati i contratti preliminari a New York la trattativa procede si spera che entro fine mese possa andare a buon fine il tutto la Roma sta per vivere un cambiamento una fase storica epocale cioè cambio di proprietà entrerà Friedkin la trattativa non ha mai avuto intoppi fino a questo momento procede spedita e sono giorni molto molto importanti già insomma che sono stati firmati i contratti preliminari a New York questo dimostra come la trattativa stia in una fase più che avanzata salvo intoppi dell'ultimo minuto la trattativa andrà sicuramente sicuramente a buon fine e detto questo ragazzi noi ci lasciamo vi invito a seguirci sul nostro account twitter dove trovate tutte le informazioni necessarie sul nostro sito sulla nostra pagina facebook su instagram sulla nostra radio ovviamente dove potete riascoltare tutti i nostri podcast vi aggiorneremo sul nostro canale youtube mi raccomando iscrivetevi vi aggiorneremo sulla sulla situazione serie A insomma domani ricordiamo c'è questo consiglio straordinario della FIGC in conference call dove si decideranno le sorti del campionato di serie A e vi aggiorneremo sulla situazione europea della Roma in primis se Siviglia Roma si giocherà a porte chiuse ma oggi verrà presa la decisione questa è la direzione 90% si gioca a porte chiuse aspetta al governo scegliere e poi se cambierà qualcosa in ambito europeo per quanto riguarda i giallorossi un saluto a tutti e sempre sempre forza Roma grazie a tutti